Una scelta di vita presa con la certezza di aver fatto la cosa più giusta. Quello che parla è un Camoranesi estremamente felice, che stringe forte in mano un vocabolario di tedesco e la maglietta della sua nuova squadra, lo Stoccarda. Uno dei tanti club che in questa sessione di mercato l'hanno corteggiato, ma che alla fine è stato capace di portarlo qui in Germania. Qui proprio in Germania, dove Camoranesi ha tanti bei ricordi, legati per la maggior parte dei casi con la Nazionale Azzurra, ma soprattutto dove ritroverà un suo ex compagno bianconero, Cristian Molinaro. Diciamo che per due motivi. Prima che lo Stoccarda è sicuramente stata la squadra più concreta, quella che con pochissimo tempo a disposizione ci ha fatto arrivare in Italia una richiesta nei miei confronti, quindi io non potevo dire di no. All'ultimo momento sono arrivate altre due squadre, ma penso che per Blassone, per Gerarchia questa era la squadra più importante per proseguire la mia carriera e anche per la mia famiglia. Io sono felicissimo, ho fatto la scelta giusta e sono sicuro che potrò ripagare la fiducia che questa società mi sta dando in questo momento nei prossimi anni. Sto vivendo un momento veramente felice. O forse diciamo che hai scelto anche la Germania perché qui è legato uno dei momenti più felici della tua carriera? Ma sicuramente sì, sono due cose diverse, ma sì, quello non me lo dimenticherò mai più. È stato forse il momento, sicuramente il momento più bello della mia carriera, cioè l'apice della mia carriera. E quindi quello non te lo scordi mai. Qui, da quello che ho sentito, c'è la comunità più grande di italiani, quindi sicuramente mi ricorderanno quella impresa che in 40-50 persone abbiamo realizzato in questo paese. Adesso è arrivato il momento di mettermi a lavorare, di dimostrare ancora che sono un giocatore che è in grado di giocare a questi livelli. Ripeto, sono felice che una società così importante mi dia questa possibilità e sono sicuro che ripagherò. Qui gioca Cristian Molinaro, tuo ex compagno alla Juve. Hai parlato con lui, lui ti ha aiutato nella tua scelta? Ma mi ha aiutato, mi ha detto com'era l'ambiente. Io l'ho ringraziato telefonicamente, visto che quando ho sentito che c'era la possibilità di venire qui, nello stesso giorno ho ricevuto la sua telefonata. Niente, mi ha incoraggiato anche a venire, quindi speriamo di far bene. Io sono sicuro che farò bene quest'anno, io me lo sento, me lo sento perché ho tanta voglia, ho voglia di far bene, ho voglia di riscattarmi, ho voglia di giocare a calcio, che è quello che magari negli ultimi due anni non mi era successo. Qui ritrovo entusiasmo, ritrovo persone nuove, gente nuove, nuovi compagni, tutto nuovo, quindi tutto da scoprire. Questo spero che diventino le cose fondamentali per far sì che sia una stagione positiva. La Juventus per Camoranesi è solo un bel ricordo lontano, forse anche per questo il giocatore non vuole più commentare e raccontare i dettagli di una separazione che almeno inizialmente non è stata consensuale. Il giocatore italo-argentino vuole concentrarsi solo sullo Stoccarda e vincere con questa squadra tedesca. In particolare ha promesso che in caso di vittoria del campionato sarà disposto, sarà pronto, come proprio in Germania 2006, a tagliare parte della sua lunga chioma. Tu alla Juve hai giocato otto anni, hai dato tanto, hai dato anche un anno di Serie B da campione del mondo. Ti aspettavi da parte del club bianconero un comportamento diverso nei tuoi confronti? No, no, io, guarda, sinceramente adesso è cambiato tutto e comincio una nuova vita. Ho solo parole di ringraziamento per una società che mi ha tenuto nelle sue file per otto anni. Io ho dato tutto quello che potevo dare a quella società. Penso che da parte loro si siano comportati nello stesso modo che mi sono comportato io. Quindi non posso rimproverare nulla. Ho solo parole di ringraziamento anche per la gente di Torino che mi hanno voluto tanto bene. Anche in questi giorni che c'era un po' di incertezza sul mio futuro mi sono stati vicini. Quindi assolutamente niente da dire. Per quanto riguarda le scelte della società saprà la società gente che ha una certa esperienza. Quindi sapranno loro quello che è meglio per la società e per il futuro della squadra. Mi auguro soprattutto per i miei compagni che sono colleghi che possano far bene quest'anno, che possano realizzare i propri sogni. Io sto realizzando il mio quindi sono solo più che figlio. Lo personale sicuramente cercare di giocare tante partite, ma tante, visto che ho avuto poca continuità per via di alcuni problemi. E quindi sicuramente ritornare ai livelli di due anni fa, cercare di giocare il maggior numero possibile di partite a buon livello. Non tanto giocare per giocare, ma scendere in campo per divertirmi e cercare che questo divertimento diventi anche risultato. I colleghi dei stessi hanno chiesto se lo Stoccarda vincerà, se tu ripeterai il gesto di Germania 2006, cioè ti taglierai i capelli. Assolutamente sì, se c'è la possibilità di vincere uno scudetto qui mi taglierai anche qualcosa in più di capelli. Però va bene così, per adesso va bene con i capelli. Da Stoccarda per Sky Sport 24, Federico Lo Giudice.